Pordenone è una tra le città nel mondo che in contemporanea, domenica 22 maggio, ospiterà un particolare raduno di motociclisti e motocicliste in abiti eleganti per una raccolta di fondi a favore della ricerca contro il cancro e la depressione maschile, promosso da Distinguished Gentleman's Ride. 800 città con 100 paesi che parteciperanno nel stesso momento a questa manifestazione, che, lo dico in italiano, motociclisti eleganti saranno portatori dell'abbigliamento elegante, pur con le moto, una finalità straordinaria, qualcosa che riguarda delle malattie che gli uomini possono avere e hanno anche sostegno delle donne che parteciperanno in questo momento qua. Dunque diciamo che Pordenone, con questa manifestazione, nello stesso momento farà parte di un grande collettivo in tutto il mondo, un movimento che parte dall'Australia nel 2012 e adesso si concretizza sempre di più e avremo anche a Pordenone questi motociclisti eleganti che daranno il loro messaggio con finalità importante ma soprattutto anche con un comportamento ineccepibile sia nell'abbigliamento, sia nel comportamento e sia per una grande finalità sanitaria, sottosanitaria. Alle ore 12 saremo tutti quanti in analogia comunale per applaudire il vostro arrivo nel cuore della città di Pordenone. Le finalità dell'iniziativa sono illustrate dal Presidente del Sodalizio e organizzatore Giorgio Fabbro. La Distinguished Gentleman Ride, DGR, nasce in Australia nel 2012, nasce più o meno come scherzo nel senso di proporre un'immagine del motociclista diversa da quella stereotipata solita del teppista e poi si diffonde a macchia d'olio nel mondo e arriva anche qui a Pordenone dove viene accolta e che è stata ospitata anche dall'amministrazione comunale. La causa che sosteniamo è una causa benefica, recogliamo fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata e la salute mentale maschile e appunto è una manifestazione internazionale che vede coinvolti più di 100 paesi e 800 città del mondo.